vi presenta questa grande opportunità non devi più cercare non si può andare oltre questa bellissima casa comprende soggiorno che è compatibile con uno stile di vita rilassato una cucina eccecinalmente arredata che renda semplice la preparazione dei pasti gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti prenotate oggi una visita